Come puoi trovare l'idea giusta per la tua startup di successo? Oppure hai tante idee e vuoi capire come identificare quella che ha le probabilità più alta di farcela? Bene, questo è un po' l'obiettivo di questo video. Un video che parte dalla mia esperienza personale di founder fallito, ma anche di impiegato di tantissime startup e persone che ha fatto da consulente a startup che vanno da una fase pre-seed, quasi embrionale, a invece aziende che ormai sono valutate a 10 miliardi di dollari e quindi ha visto un po' tutto lo spettro possibile e immaginabile. Questo video fa parte di una serie di video in cui voglio cercare un po' di demistificare il mondo delle startup e dare delle guide step by step per portarvi dal processo di ideazione di un'azienda fino al processo di, insomma, farla nascere e crescere. Non assolutamente perché sono la persona a cui affidarsi completamente, ma perché penso di poter offrire un punto di vista interessante, utile, a chi magari come te si trova ad avere dei dubbi su questo percorso, avere delle problematiche e quindi voglio un po' di feedback da persone che magari ci sono già passate. Partiremo dal parlare effettivamente di quale sia l'importanza di un'idea giusta, dell'idea giusta, se l'idea giusta esiste oppure no, perché ci sono molte incomprensioni in merito. Il secondo step sarà quello invece di discutere come fare a trovare delle idee, come facciamo a generare in maniera consistente idee che siano effettivamente buone e poi come facciamo a scegliere tra tutte le varie idee quella che magari ha le più alte probabilità di successo, quella che ci interessa di più. Partendo dall'importanza delle idee, mi sento in dovere di stressare una cosa che è stata detta già tante volte, ma forse mai abbastanza. Non serve trovare l'idea geniale. Ci sono tantissime aziende, l'esempio più comune è quello di Google, quello di Amazon, che hanno fatto cose che erano già state fatte, per esempio Google è stato uno dei tanti motori di ricerca, Amazon è stato sicuramente non il primo e-commerce, ma sono state aziende che hanno avuto la migliore esecuzione, hanno capito meglio quelli che erano i loro clienti, i bisogni dei loro clienti, sono riusciti a creare, a iterare più velocemente e a testare varie idee in maniera rapida. Quindi grazie alla loro capacità di esecuzione hanno trasformato un'idea, che era una delle tante, in una startup che ha avuto successo, che è riuscita a scalare. Quindi, che cosa significa questo? Che basta prendere un'idea qualsiasi e fondamentalmente essere bravi a svilupparla? No, chiaramente ci sono dei fattori di igiene, chiamiamola così, vogliamo avere un minimo di qualità nell'idea che andiamo a scegliere, ma un livello ancora più alto, minimo, è relativo alla nostra esecuzione. Possiamo avere l'idea più geniale del mondo, possiamo avere l'idea di creare Instagram l'anno prima che Instagram effettivamente venga creata, ma se non siamo in grado di fare un go-to-market adeguato, se non siamo in grado di capire come distribuire questo prodotto nella maniera migliore possibile, allora rimarremo limitati. Bene, abbiamo parlato del fatto che non ci serva un'idea geniale per cominciare, ma andiamo più nel dettaglio nel capire comunque qual è un'idea buona abbastanza per far sì che possiamo cominciare, effettivamente avere delle probabilità di successo. Bene, il primo aspetto che viene ripetuto in tutti gli acceleratori, in tutti gli incubatori, in tutti i workshop di startup, però che voglio ripetere ancora una volta, perché ho visto fare questo errore centinaia e centinaia di volte, è quello di partire da un problema importante e non da una soluzione che ci sembra figa, che ci sembra interessante. Prenderò l'esempio dall'articolo di Paul Graham, uscito ormai una decina d'anni fa, che abbiamo letto in live su questo canale. Tra l'altro, se cliccate qui, ci dovrebbe essere la live in cui analizziamo insieme quell'articolo, proprio in preparazione di questo video. Lui parla del social network per gli animali, mette questa idea, anzi non per gli animali, scusate, per i proprietari di animali, no? Quindi un social network dove io, che sono proprietario di un cane che adesso sta qui, posso connettermi con altre persone che sono proprietari di cani e magari discutere di come riuscire a domesticare meglio il cane perché si comporta male. Lui chiama queste idee le idee da serie tv, cioè delle idee che sono carine, che sono plausibili abbastanza, e diciamo un'idea che potrebbe venire in mente a uno scrittore di una serie tv che deve inventarsi il fatto che un personaggio da un giorno all'altro decide di lanciare un'azienda, una startup. Però c'è un problema fondamentale con tutti questi tipi di idee, anzi ce ne sono due. Il primo è che sono idee di una startup che partono da una soluzione, quindi noi ci innamoriamo dell'idea di costruire questo social media per i proprietari di animali, perché sappiamo che un sacco di gente è animali, che tanta gente è disposta a spendere tanti soldi per il proprio animale, e ci piace l'idea di fare un social network, perché i social network sono grandi, molto di successo, possono portare a tanto denaro, eccetera, eccetera. Ma il vero modo per lanciare una startup che funzioni, nel 99% dei casi, è quello di partire da un problema. Se noi sappiamo che effettivamente le persone hanno il problema di riuscire a capire come addomesticare il proprio animale domestico, oppure come ricevere consigli su come gestire il proprio animale domestico, sicuramente possiamo eventualmente pensare a questa soluzione del social network. Ma partire da questo mindset differente ci permette anche di esplorare altre idee, altre opportunità, altre soluzioni. E indagando in maniera più dettagliata, ci renderemo conto che l'idea del social network non funziona poi così tanto bene. L'esempio viene descritto meglio all'interno dell'articolo di Paul Graham, ma fondamentalmente che succede? Ci vengono in mente queste soluzioni carine, che sembrano abbastanza interessanti per far sì che noi andiamo in giro, andiamo dai nostri amici e gli chiediamo ma tu ti registreresti a un social network per proprietari di animali domestici? E la risposta tendenzialmente sarà ah sì, che idea carina, magari ci farei un pensierino a registrarmi. E questa risposta viene ripetuta per 7 miliardi di persone che esistono nel mondo. Qual è il problema? È che nessuna di queste persone ha un bisogno importante di una piattaforma di questo tipo e quindi tutti quanti cominceranno a rinviare l'idea di iscriversi. Semplicemente si crea questa specie di rimando generale e quindi nessuno si registra sulla nostra piattaforma inizialmente, noi riusciamo ad avere una massa critica che giustifichi poi l'arrivo delle persone che stanno rimandando nella piattaforma. Se la nostra idea funziona, dobbiamo avere anche un gruppo minuscolo di utenti che però sono incentivati abbastanza da prendere azione oggi, adesso, sul momento. E quindi che succede? I founder con la mentalità del ho questa idea e la voglio mettere in atto magari lanciano la piattaforma anche se non riescono a captare bene il feedback delle persone perché si casano. Sentono che tutti quanti dicono ah sì, che bella questa idea, è carina, mi piacerebbe. Però non fanno le domande difficili, non chiedono effettivamente o non fanno le prove, non fanno effettivamente una finta landing page per vedere quante persone poi effettivamente si registrano sulla piattaforma. Semplicemente prendono questo feedback, lo usano come confirmation bias e vanno avanti con i paraocchi, se è come i treni, lanciano la piattaforma su cui poi non si registra nessuno. Se invece i founder partono sapendo che c'è un problema, anzi, investigando il problema, neanche sapendo che c'è un problema perché non vogliamo assumere, però investigando il problema i proprietari di animali non sanno bene dove trovare risorse per addestrare i propri animali, allora possono cominciare a avere più il mindset da esploratore. Quindi cominceranno a chiedersi, cominceranno a chiedere ai propri utenti effettivamente qual è la cosa che vorresti migliorare nella gestione del tuo animale domestico. E lì cominceranno a avere risposte differenti, magari da varie persone, cominceranno a vedere dei pattern correnti, magari un pattern è il fatto che gli animali grandi, appunto il mio cane, che sono aggressivi, sono molto difficili da gestire perché poi non hai nessuno che effettivamente vuole darti una mano ad addestrarli o è complicato perché sono anche pericolosi e quindi poi magari capiranno che lì c'è una nicchia interessante e a quella nicchia cercheranno di proporre o anzi di ascoltare di più quella nicchia e capire quali prodotti possono essere interessanti per loro, quali soluzioni, però non avendo ancora una soluzione in mente, poi magari si accorgono che una persona che ha un cane difficile, che è anche un cane grande, è disposta a spendere tanti soldi per sistemare questo problema. Perché? Perché chiaramente avere un cane in casa che è aggressivo ti limita tanto da un punto di vista della vita sociale, se vedete che piango un po' dentro non è semplicemente una foglia che mi è entrata nell'occhio qui nelle mura di casa. Appunto parlo per esperienza personale, questo è un problema importante che va risolto e quindi magari capiscono che una cosa che si può fare è creare un marketplace dove io, proprietario di cane, vedo tutti quanti gli addestratori che sono specializzati in cani aggressivi, in cani grandi che magari hanno l'attrezzatura particolare per assicurarsi di non farsi male, eccetera, e mi mettono in contatto magari una serie di... oppure scoprono che è meglio avere una serie di risorse che io posso usare e costruiscono un'app con i training che io posso fare direttamente con il cane perché gli addestratori non ci sono. Quindi tutta una serie di opzioni che ci si aprono davanti invece di avere semplicemente la visione chiusa su una soluzione che ci sembra interessante. E poi c'è un altro problema del social network dei cani. Un problema che abbiamo invece già risolto con questo mindset da esploratori. Cioè il fatto che è molto molto più difficile creare un prodotto che sia wide, un prodotto che vada bene per tutti, rispetto a creare un prodotto che vada in profondità per pochi. Quindi noi abbiamo in testa gli esempi di Instagram, gli esempi di Facebook, gli esempi di Google, di Amazon che sono piattaforme usate da tutto il mondo. Ma la verità è che queste piattaforme, la maggior parte di loro, all'inizio, erano molto focalizzate su un target specifico. Forse Google è quella che lo era meno, però lo stesso Facebook è partito come social network per gli studenti di selezionate università. E poi piano piano si è espanso a tutte le università americane, e poi si è espanso ai teenager, e poi si è espanso al mondo intero, se vogliamo, no? Diciamo, l'assunto che viene fatto anche da Paul Graham nell'articolo che menzionavamo prima, è che la maggior parte delle startup dovrebbe concentrarsi su un segmento specifico di persone, risolvere in profondità quel problema, e poi solo dopo eventualmente espandersi. Non sono completamente d'accordo, magari per lui la percentuale è 99% delle startup dovrebbe fare questo, per me la percentuale è 80%, però sicuramente questo è un qualcosa che dovete tenere in considerazione, cioè, soprattutto se siete agli inizi, è meglio concentrarsi su una piccola parte della popolazione, risolvere il loro problema in maniera specifica, in maniera importante, in modo che evitiamo il problema del, ah ok, sì, mi interesserebbe il social network per animali, però non è che devo registrarmi domani perché questo mi darebbe un grandissimo vantaggio nella mia vita adesso, è un nice to have, diciamo, che però non è abbastanza per spronarmi a fare il prossimo passo, invece noi vogliamo avere un qualcosa che sia un must have per le persone, un qualcosa che devono avere, perché a quel punto riescono a, come dire, andare oltre l'ostacolo di registrarsi su una nuova piattaforma, di pagare per un prodotto nuovo di cui non si fidano, cioè il nostro prodotto deve essere talmente importante per loro da sovrascrivere tutte quelle che invece sono le loro preoccupazioni in merito a noi, visto che non si possono fidare di noi, non ci conoscono. Vi faccio un esempio personale, lavoro per un'azienda che ha creato una piattaforma che permette alle persone di sviluppare delle web app, degli MVP per delle startup tramite no code, quindi se non sai sviluppare puoi costruirle con software.io o io. Bene, questo è un prodotto che potenzialmente può essere usato da tutti, può essere usato dall'HR manager per costruire una directory di tutti gli impiegati dell'azienda, una pagina dove possono chiedere le ferie, dove possono fare submit delle loro spese, quindi magari questo è anche un prodotto per finance, no? La lead of finance può fare un prodotto dove le persone mettono gli scontrini, possono richiedere rimborsi, il loro capo può accettare oppure no, oppure il team di marketing può usarlo per creare landing page, per creare marketplace, per condividere una lista di risorse con i loro clienti, eccetera, eccetera, quindi tantissimi utilizzi. Ma il modo più efficace che c'è per distribuire un prodotto di questo tipo, quindi un prodotto che tecnicamente viene chiamato orizzontale, puoi costruirci un qualsiasi tipo di prodotto. Noi non possiamo andare dal capo di marketing di azienda X e dirgli guarda, tu puoi costruirci il prodotto per il team di finance, puoi costruirci il prodotto per il team di HR e puoi costruirci il prodotto per il team di marketing perché stiamo diluendo il messaggio in una maniera incredibile oppure non possiamo dirgli tu puoi costruire qualsiasi cosa con questo prodotto perché la maggior parte delle persone verrà, come dire, sommersa da tutte queste opzioni, potenzialità nella sua mente ma non riuscirà a vedere in maniera chiara quello che è il beneficio più evidente, più importante per lui sul momento. Il modo migliore per tantissime aziende orizzontali per approcciare questo problema pensiamo anche a Notion, Notion è un prodotto in cui tu fondamentalmente hai una tela bianca e puoi creare documenti, puoi creare database, puoi creare visioni tipo Kanban, quindi tipo Trello. Il modo migliore per far, per convincere qualcuno è cercare il problema specifico che ha, quindi nel caso di Notion magari loro vanno da influencer che spiegano come tenere un diario giornaliero spiegando agli utenti di questi influencer come fare un diario giornaliero fanno vedere come usare Notion per risolvere questo problema e allora le persone si registreranno su Notion per fare il loro diario e poi una volta che sono dentro Notion una volta che hanno già preso il loro step per entrare nella piattaforma allora cominceranno anche a scoprirlo come strumento per fare altre cose. Questo chiaramente non vuol dire che non ci siano persone attratte dall'idea di poter fare qualsiasi cosa con un prodotto e quindi che si registreranno con messaggi di questo tipo semplicemente è un gioco di percentuali le persone che hanno questa mindset questa personalità sono di meno rispetto a quelle che invece si sono concentrate su i propri problemi e che riescono a inquadrare meglio la situazione quando ti concentri su un punto solo quindi tendenzialmente quando noi abbiamo un'idea vogliamo concentrarci sul problema di una persona abbastanza specifica che poi può essere allargato in altre occasioni ora le domande successive sono ma quanto deve essere stretto questo circolo iniziale e invece quanto può essere largo il circolo finale quanto deve essere largo anche qui non ci sono risposte pronte risposte esatte soprattutto per la prima domanda cioè quanto deve essere piccolo questo cerchio in generale chiaramente non volete avere un prodotto che si concentra su una sola persona perché se quella persona vi dice no poi non avete più un business ma usare la razionalità pensando a quelli che sono i tassi di conversione che potete avere per esempio se state costruendo un prodotto che costa 10.000 euro ok quindi un prodotto molto costoso e verrà venduto senza alcun tipo di sales quindi semplicemente le persone sul sito arrivano e devono comprare il prodotto beh sapete che il tasso di conversione per qualcuno che spenderà 10.000 euro su un prodotto del genere sarà bassissimo e quindi sotto lo 0% probabilmente quindi il pubblico potenziale per avere almeno non lo so 5-10 clienti su cui puoi cominciare a literare dovrà essere di 5.000 10.000 persone se non di più chiaramente questo è un caso estremo facciamo un caso più realistico in cui abbiamo un prodotto invece che magari costa 1000 euro e verrà venduto tramite vendita come dire a mano vendita personalizzata quindi avete uno dei fondatori che si occuperà di fare tutto il processo con potenziali clienti il vostro target è avere un numero iniziale di clienti che vi permetta di ricevere feedback sul prodotto in maniera consistente quindi questo vuol dire anche magari se è un prodotto che usano tutti i giorni e è un prodotto fondamentale per il loro business ve ne basteranno 10 di clienti o 5 se invece è un prodotto che usano in maniera sporadica e non riuscirete ad avere feedback su base giornaliera ma sarà su base settimanale magari per voi sarà importante avere mille di questi utenti e quindi dovete abbassare il prezzo oppure dovete cambiare modo di vendere diciamo sono calcoli non semplici da fare però non mi preoccuperei di un numero esatto di quanti clienti voglio avere all'inizio semplicemente quello che mi chiederei è quanto è veloce il feedback che riceviamo su questa idea e in base a quello cercherei di allargare un po' o restringere un po' il tiro all'inizio della vostra startup dovete ottimizzare assolutamente per questa metrica qui cioè quanto riusciamo a migliorare giorno dopo giorno e prendere la maggior parte delle vostre decisioni in questo modo qui l'altra cosa che vogliamo avere comunque chiaramente è ok parto da questa nicchia specifica il capo di marketing di un'agenzia SEO ok quindi un'agenzia SEO che abbia più di 150 persone andando ancora più nello specifico negli Stati Uniti ok questo è un target abbastanza specifico capo del marketing di un'agenzia SEO che abbia più di 150 persone anzi capo di vendita magari è più normale che abbia più di 150 persone negli Stati Uniti non è troppo specifico non è che abbia un labrador tornando sempre sul discorso dei cani ma appunto è abbastanza dettagliato per dettare il modo in cui voi sviluppate il vostro pitch di vendita del vostro prodotto la domanda successiva è vogliamo avere già chiaramente fino a che punto allargare questo prodotto cioè magari dal capo della vendita delle agenzie della SEO passiamo ai capi di vendita di qualsiasi agenzia oppure dal capo della vendita della SEO per delle agenzie SEO passiamo al capo finance di agenzie della SEO insomma ci sono vari modi di espandersi noci si può espandere in verticale all'interno della stessa azienda o in orizzontale all'interno della stessa azienda all'interno della stessa industria all'interno dello stesso modello di business vogliamo avere un'idea che poi magari cambierà con il tempo ma quanto deve essere grande questa idea finale a livello di cerchio anche qui non ci sono dei limiti veri e propri però abbiamo bisogno di un limite fittizio da condividere magari con gli investitori qui ci sono due considerazioni importanti la prima è che l'investitore non vuole sentire che voi sarete un prodotto per tutto il mondo perché sa già che è una cosa irrealistica e la sente un po' come una presa per il culo quindi non vogliamo dire che il nostro prodotto sarà per tutti ma allo stesso tempo non vogliamo avere un mercato troppo piccolo ho fatto un video che forse comparirà qui 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 non lo so in cui vi parlo di come ragionano gli investitori delle start up e vedendo questo video vi renderete conto che in Europa negli Stati Uniti forse questo valore sale ancora di più però se volete essere attrattivi per degli investitori in fase iniziale del vostro business ci deve essere un ragionevole motivo ok una strada ragionevole per cui un giorno la vostra start up possa valere ad arrivare possa arrivare a valere almeno 200 milioni di euro come minimo perché altrimenti la matematica dietro l'investimento in voi non funziona ok appunto andando a vedere quel video si capisce di più ma considerato il tasso di fallimento delle start up e quanto l'investitore vuole far tornare nel proprio fondo alla fine degli anni in cui questo fondo poi si chiuderà l'importante è che ci sia abbastanza margine per crescere e questo margine per crescere di solito arriva a una cifra di quel tipo lì quindi dai due se voi siete in grado di creare uno scenario per cui il 10% delle volte perché chiaramente il resto fallirete però il 10% delle volte la vostra azienda varrà 200 milioni 300 milioni o più allora quello è già una dimensione interessante per un investitore all'interno del pitch magari cercherei anche di andare un po' più alto cioè cominciamo a pensare magari anche al miliardo dipende da quanto siete di nicchia quanto siete specifici però una volta che riuscite a mettere fuori questi numeri tendenzialmente già è ok chiaramente più riusciamo ad andare in maniera ragionevole in alto più attrattiva è più attrattivo all'investimento poi dipende se siete pre-seed seed serie 6 più si va avanti più questa cifra di nuovo deve salire perché il ritorno altrimenti diminuisce ora che abbiamo capito il mindset per trovare l'idea e il modo in cui iniziare questo aspetto parliamo un po' del come trovare delle idee pratiche allora sicuramente il primo consiglio anche questo dato in qualsiasi workshop in merito è quello di partire dalla propria esperienza personale quindi se voi siete dei web designer e vi rendete conto che c'è qualcosa al lavoro che vi crea sempre dei problemi quello può essere un buon problema da cui iniziare no? torniamo al punto di prima partiamo dal problema non dalla soluzione magari chi ha inventato Figma adesso non lo so però sta inventando Figma famosissima azienda di UX UI design che è stata venduta da Adobe ad Adobe per 20 miliardi mi sembra di recente magari chi ha creato Figma era un designer che si è reso conto che collaborare con i propri colleghi era estremamente difficile ricevere del feedback sulle proprie idee di design era estremamente difficile e quindi partendo da quel problema ha creato la soluzione una versione moderna delle applicazioni che ti permettevano di creare dei design per le app per i siti in cui si poteva collaborare tramite web in tempo reale ok? quindi partire da un'esperienza personale magari in qualcosa che incontriamo al lavoro è un'ottima idea perché sapete che almeno una persona nel mondo ha quel problema e quindi c'è qualche indizio in più che questo problema possa esistere anche per gli altri poi il passo successivo chiaramente è quello di testare e vedere se questo problema realmente esiste se esiste per abbastanza persone e se è un problema abbastanza importante però di questo ne parleremo dopo un altro modo per trovare idee un modo più pratico è quello di trovare cose che funzionano in altri settori o in altri paesi in altre geografie c'è la famosissima Rocket Internet molto controversa anche che però ha fatto questo fondamentalmente cioè il mio uno dei miei primi CEO era il CEO di Groupon europeo che fondamentalmente era una copia del Groupon americano ma trasportata in Europa quindi soprattutto al di fuori dell'Europa in cui i confini sono più labili mettiamola così però se prendiamo un'idea che funziona negli Stati Uniti e la trasportiamo in Europa se lo facciamo in maniera corretta e assumendo che che ci siano dei parametri culturali societari simili per quanto riguarda l'ambito che stiamo targettizzando sappiamo già che se l'azienda da cui stiamo copiando tra virgolette è di successo sappiamo già che ci sono delle opportunità questo è un metodo ragionevole e rispettabile se vogliamo per trovare delle idee un altro è quello di fare la stessa cosa però non a livello geografico a livello di settore quindi magari Figma funziona per i website designer perché non fare la stessa cosa per chi scrive marketing non è non ve lo consiglio però facciamo finta che magari i copywriter per le pubblicità di marketing hanno un problema simile a Figma non c'è un post in cui si può fare review e commenti insieme delle creatività di Facebook di Google eccetera eccetera e quindi creiamo questo tool per fare tutto insieme perché per qualche motivo Google Doc non funziona ripeto è una pessima idea però ecco questo può essere un modo di trasportare l'idea non geograficamente ma da un settore all'altro ora chiaramente ci sono alcune idee che a livello geografico non possiamo trasportare per esempio ho parlato una volta con un capoccia di WeChat che mi ha parlato della sua esperienza nel cercare di portare WeChat in Europa alcuni di voi si ricorderanno le pubblicità di WeChat con Lionel Messi che era 2012 forse che cercava di fare un po' di competizione a Whatsapp e poi però quello che mi ha detto è ci siamo resi conto che quello che WeChat è in Cina cioè un'app con cui puoi prenotarti il parrucchiere puoi pagare alla cassa puoi chattare con i tuoi amici puoi seguire gli influencer quindi un'app in cui puoi fare tutto una super app in Europa per un motivo o per un altro non funziona non c'erano i presupposti culturali per farlo magari c'erano pregiudizi su WeChat in questo caso stiamo parlando anche dello stesso brand non neanche di copiare l'idea di qualcun altro e quindi abbiamo dovuto trovare uno spin diverso alla nostra idea questo è un problema che dovete tenere a mente cioè in ogni settore in ogni geografia ci possono essere delle differenze culturali chiave che rendono questo trasporto una brutta idea quindi anche per questo motivo anche quando copiate un'idea che già funziona all'estero dovete cercare di testarla con mano e vedere se i vostri clienti sono effettivamente disposti ad andare avanti e come fare a fare questo qua ci colleghiamo al prossimo punto del video per validare un'idea vi consiglio di seguire quello che viene chiamato mam test c'è un libro molto interessante che anche questo dovrebbe essere linkato in descrizione ma cercando mam test dovete trovarlo in cui si mettono a confronto due approcci il primo è il tipico approccio il primo esempio del libro comincia con il figlio che va dalla mamma 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 ti piace l'ipad giusto? sì figlio l'ipad effettivamente mi piace è un bello strumento ma ti piacerebbe avere sul tuo ipad un libro con tutte le tue ricette? magari la mamma risponde ma guarda potrebbe essere interessante però sai ho già tanti libri di ricette perché usare l'ipad dice ma guarda che sarebbe molto meno costoso ti costerebbe cinque volte di meno e avresti dieci libri invece che quei tre quattro invece che hai a casa non occuperebbero spazio in mensola poi lei magari dirà ah sì effettivamente però sai magari poi mentre sto cucinando sporco l'ipad e ti dice no ma non è un problema puoi mettere l'ipad sulla stand e scorrerlo con gli occhi magari questa applicazione capisce quando vuoi scrollare la pagina oppure hai controlli vocali questo è il modo sbagliato di fare il pitch della vostra startup quando state cercando un'idea perché? perché fondamentalmente state forzando quella che è la vostra visione su quello che è il vostro potenziale cliente invece il modo giusto è quello di essere di nuovo in mentalità da esploratore in modalità di ricerca quindi cominciamo a chiedere magari mamma ma quando lo usi l'ipad? cioè in quale situazione usi l'ipad? mentre stai cucinando? mentre ti rilassi prima di andare a dormire? mentre stai sul divano dopo lavoro che sei stanca? e cominciamo a avere un po' di informazioni poi magari chiediamo mentre usavi l'ipad quali sono state le cose più frustranti? cos'è che ti crea più fastidio? e quindi poi magari scopriamo che quando stai con l'ipad sul divano a rilassarti si scarica oppure i video di youtube si vedono male insomma ci sono tantissime opzioni che magari per noi sono inesplorate e che sono molto più intelligenti di andare a creare un libro di ricette per l'ipad appunto quindi vi consiglio di leggere questo libro che approfondisce il tema e assolutamente ne può valer la pena il secondo step per poi diciamo capire qual'idea scegliere una volta che cominciamo a valutarlo con tanti potenziali clienti è quello appunto di chiedersi quanto può essere grande il mercato come riusciamo a espandere il mercato ne abbiamo parlato prima e in generale io mi concentrerei sul direzionare veramente tutta la vostra attenzione sul parlare con più persone possibili all'interno del vostro target più o meno magari anche persone leggermente più fuori e quanto grande è questo problema per loro quanto sarebbero disposti a spendere per risolvere questo problema cercate di essere brutalmente onesti con voi stessi anch'io a volte sono caduto in questo errore magari mi innamoravo talmente tanto della soluzione che mi ero inventato e di quello che stavo facendo che in un certo senso mi mentivo da solo su quelli che erano i risultati delle domande delle risposte magari avevo in mente questa feature vedevo che nessuno la menzionava e quindi potenzialmente erano segnali nel negativo però cercavo di inserirla io nella conversazione in maniera forzata già predisponendo la domanda a una risposta positiva questi sono tutti i bias che dobbiamo assolutamente cancellare perché essere onesti con noi stessi adesso fare le domande giuste nel modo giusto adesso ci risparmerà un sacco di tempo di sviluppo dell'idea e poi di fallite vendite in futuro meglio veramente essere brutalmente onesti e essere anche in eccesso di feedback in un certo senso in questa fase piuttosto che non il contrario un ultimo punto che mi sento di consigliarti mentre stai scegliendo l'idea è quello di chiederti ma perché io qual è il mio vantaggio da startup founder di questa idea ok oppure di questo problema se ancora sei alla fase di iniziale rispetto a qualcun altro quindi perché io Tommaso sono la persona giusta per iniziare una startup che risolve la fama nel mondo perché ho lavorato dieci anni alla FAO e è un problema che mi ha sempre appassionato e ho la famiglia di agricoltori conosco benissimo tutto il processo di vendita dei carciofi dal contadino al supermercato ok questo è fondamentale per vari motivi lo dico perché mi ha toccato personalmente io mi sono reso conto di aver fondato di aver raccolto fondi di aver lavorato per una startup per cui io non ero una persona speciale no come fondatore riuscivo a fare per quell'azienda quello che un qualunque bravo magari head of marketing head of sales avrebbe potuto fare e questo è veramente un problema che nel lungo termine si verrà diciamo verrà a galla perché ci staranno magari tante persone con un'idea simile alla vostra però se non avete degli insight particolari se non avete delle caratteristiche particolari come persona se non avete delle passioni particolari per quello che state facendo per il problema che state risolvendo sarà molto più difficile per voi rimanere al passo ci sono tanti casi in cui questa regola non si è rilevata esattamente vera però tendenzialmente direi o cercate di essere la persona speciale per il problema che state risolvendo oppure quanto meno cercate di essere estremamente appassionati del tema su cui andrete a lavorare perché ci saranno tantissimi momenti difficili ci saranno tantissimi momenti in cui penserete di aver fatto le cose completamente sbagliate di essere su una cattiva strada momenti che vi porteranno giù ci saranno anche tanti momenti che vi porteranno su per carità però ecco se non avete un'estrema passione per risolvere il problema che state cercando di risolvere allora magari non avrete l'energia di fare il pivot e cambiare la soluzione al problema e che è una cosa che magari dovete fare oppure non avrete l'energia per continuare a provare a vendere il vostro prodotto quando in un giorno in dieci vi avrebbero detto di no e magari il quindicesimo vi avrebbe detto di sì però vi fermate perché perché lo sforzo che è dietro il lanciare una startup è al di là di uno sforzo normale di completare un qualsiasi progetto quindi almeno una di queste due cose vi consiglio di averla dovete avere esperienza precedente o esperienza personale delle caratteristiche personali che vi portano a essere la persona giusta per quell'idea in quel momento e o avere una sterminata passione per quello che andrete a fare su base giornaliera perché altrimenti diventerà veramente difficile da gestire e allora dovrà dirvi bene di riuscire avere trazione veloce immediata e avere il supporto dei vostri cofondatori del vostro team eccetera eccetera bene io spero che questo video molto più lungo di quanto non immaginassi vi sia stato utile vi ricordo che c'è la dive in cui commentiamo l'articolo di Paul Graham in diretta che potete trovare qui ma soprattutto questo video è parte di una serie che vuole portarvi step by step da zero a hero di diciamo da persona che non ha conoscenza del mondo delle startup a invece un founder di non successo però con l'1% di possibilità in meno di fallire rispetto agli altri condividendo le mie esperienze personali da appunto founder fallito e quello che imparo insieme a voi su questo canale all'interno del mio percorso quindi se vi interessa potete andare a vedere sia il video passato che riguarda un po' diciamo lo step zero per fondare una startup esperienze precedenti che potete fare chi è la persona magari più adatta per fare una cosa di questo tipo magari se sono già usciti anche gli step successivi quindi parleremo di come trovare un co-founder o più co-founder come lanciare il go to market per il nostro prodotto come scalare come trovare investitori veramente tutto quello che vi può servire per andare avanti ovviamente il cane si sta lamentando l'ho ignorato per i 45 minuti che ho usato per registrare questo video quindi io vi lascio come al solito ho tutti i link tutto quanto in descrizione mi piace, commenti insomma le cose da youtuber noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao